Torna il Warehouse Decibel Festival quest'anno alla sua nona edizione. La location, come sempre, è l'area verde del polo tecnologico di San Zeno, trasformata per l'occasione in un'arena per ospitare i nuovi grandi nomi del panorama musicale, cantatore, rap e rock alternative italiano. La grande musica con Franco 126, Ginevra, i migliori talenti di Arezzo, il Clang, il DJ Set, è un grande evento, grandi nomi, dalle 19 a ingresso gratuito e quindi siamo pronti con questa nona edizione. Il progetto di Aise Impianti Zero Spreco è da sempre amico e partner dell'iniziativa. Perché è assolutamente importante continuare proprio a capire e a comprendere quanto sono necessari queste centrali di recupero totale. Una volta li pensavamo inceneritori, poi sono stati trasformati, hanno dato la prevalenza a tutto quello che è il recupero e devono essere viste come centrali di produzione di energie. in tal modo possono anche servire in una situazione estremamente complicata come quello che l'Europa sta vivendo. Quindi senza indugi, avanti, in sicurezza e con la partecipazione di tutti questi ragazzi che consapevolmente vedranno anche un luogo che magari qualcuno gli ha dipinto come un posto brutto, scuro e fumoso, ma che non è così. Novità di quest'anno, sempre nell'ottica dello zero spreco, i bicchieri tecnologici che permettono di evitare molti rifiuti e che portano una tecnologia all'avanguardia all'interno del festival. Sì, questo bicchiere si chiama Pick Up, è un bicchiere praticamente riciclabile con un dispositivo a bordo, laddove io utente scarico un Apple e posso acquistare più birre, più anche il bicchiere, dove mi trovo a consumare, appoggio il bicchiere sopra un dispositivo e viene scaricato una birra. Lo scopo principale è di non disperdere, tanto per intenderci, plastica.